Secondo me la bellezza è guardare negli occhi qualcuno e vedere quanto quella persona ci tiene a te e quanto sei importante per lei. Quindi la bellezza è una cosa che viene da dentro, si manifesta esternamente e solo poche persone riescono a vedere la bellezza di una persona grazie a quei comportamenti che indicano quanto è preziosa tale persona. Grazie a tutti per aver guardato il video, grazie a tutti per aver guardato il video.